Il volo del Calabrone, da noto brano spesso riarrangiato in chiave pop o rock, a colonna sonora di questo inizio di campagna elettorale per le regionali d'Abruzzo. La metafora del presidente Marsilio, che ha utilizzato proprio la trasformazione al centro della fiaba, musicata da Rimsky-Korsakov parlando di una regione che non poteva volare e invece vola, ha innescato battute e polemiche, paragone psichedelico per il deputato D'Alfonso, improvvido per il segretario Dem Marinelli. Certo è che mancano ancora cinque mesi all'appuntamento con le urne, ma i toni sono già quelli della campagna elettorale. Il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, dice no alle polemiche. Quando si parla di regione si parla di questioni troppo fondamentali per gli abruzzesi, a partire dalla sanità, per passare per le infrastrutture, il sociale, e quindi ci può stare un po' di hilarità, però a me piace parlare più di contenuti, delle cose fatte, ma soprattutto delle cose da fare. Questo centrosinistra unito è anche una novità a livello nazionale, vi fa paura? No, grande rispetto perché in politica, così come nella vita, il rispetto è alla base di tutto. e faccio in bocca al lupo la coalizione centrosinistra sperando di confrontarsi su temi seri e non scadere in polemiche esteri che non interessano i cittadini. Un pronostico, se la sente già di farlo? Ma il pronostico io non lo voglio fare, ripeto, sono consapevole della forza del centrodestra, della forza e della serietà del presidente Marco Marsile, quindi che vinca il migliore. Grazie a tutti.